buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su youtube qui vediamo il principio della rifrazione all'opera in un bicchiere d'acqua abbiamo immerso un oggetto e si vede che l'oggetto appare piegato abbiamo messo un coltello e vediamo che sembra piegato questo è dovuto alla rifrazione della luce quando cambia all'interno di un mezzo si passa dall'aria all'acqua quindi abbiamo questo effetto vedete che si vedono doppia immagine qui invece vediamo una lente formata da una goccia d'acqua abbiamo messo una pellicola di plastica e sopra dell'acqua e qui vedete appunto una lente formata da una goccia d'acqua qui invece vediamo due prismi di porro quelli piccoli e il prisma grande è un prisma di dove i prismi di porro vengono utilizzati in strumenti ottici e scientifici come ad esempio i binocoli adesso con una piccola luce led vedremo il cammino della luce vediamo che entra in un punto qui a sinistra illuminato sale in alto e poi esce due prismi di porro normalmente vengono utilizzati per ribaltare un'immagine prisma di dove invece questo è un prisma di dove anch'esso è utilizzato per realizzare strumenti ottici scientifici buona visione e vi aspettiamo per il nostro il nostro prossimo video grazie 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 grazie